Assessore Dino Pepe, questa manifestazione 15 e 16 novembre a Penne per parlare di vino, di leccorni, insomma di eccellenze della nostra regione. Sì, io faccio i complimenti al Comune di Penne e all'associazione che organizza questa importante manifestazione di promozione del nostro territorio e in particolar modo delle nostre eccellenze enogastronomiche. Ci prepariamo Expo 2015 e questo è un appuntamento, una tappa fondamentale. Voglio fare i complimenti all'associazione che organizza perché ha pensato oltre ad aggregare i produttori, le cantine, ma anche a fare informazione, approfondimento con una serie di incontri, di conferenze e di convegni. È assolutamente importante parlare di agricoltura, di agricoltura moderna, di prodotti tipici perché attraverso queste cose adesso ci sono economie importanti anche nel nostro territorio. Il binomio vino-enogastronomia è un binomio vincente per la nostra regione? Assolutamente sì, i primi dati del primo semestre 2014, gli unici dati positivi arrivano dall'agroalimentare e dal settore agricolo. Il settore industriale, il settore commerciale, l'artigianato fanno fatica ad andare avanti mentre in agricoltura si prospettano assolutamente giornate e soprattutto mesi impegnativi che possono dare risposta importante al nostro territorio. Assessore, parlando di vino, che stagione è stata quella che si è conclusa da pochissimi? Forse è mancato un po' di sole, ma tutto sommato la stagione è stata ottima, anche i primi riscontri avuti con le cantine sono stati assolutamente confortanti.